Il Consiglio Comunale in presenza non avrebbe garantito la sicurezza necessaria per evitare i contagi da Covid-19, per questo l'opposizione non si è presentata. È successo la Dispoli dove i consiglieri di minoranza hanno affidato le ragioni della loro assenza ad un comunicato congiunto. L'aula, parzialmente inagibile, seppure sanificata per interno, non assicura le giuste distanze e soprattutto il necessario ricambio d'aria, si legge nella nota. Si tratta di requisiti indispensabili per considerare il locale a norma, in base alle disposizioni sanitarie per la lotta alla diffusione del coronavirus. Inoltre, alla luce dei contagi rilevati tra le file dell'Aggiunta, in considerazione del fatto che nella maggioranza vi sono esponenti della corrente negazionista, abbiamo preferito non partecipare, altrimenti avremmo messo a rischio la nostra salute. Si sarebbe potuto optare facilmente per lo svolgimento online del Consiglio, ma questa richiesta non è stata presa minimamente in considerazione dall'amministrazione, termina la nota dell'opposizione.